A poco più di tre mesi della riconquista di Kabul, i talebani sono messi così male nelle vesti di governanti da venire a più miti consigli, almeno a parole, quelli che hanno speso nel fine settimana a Doha, Qatar, con esponenti dell'Unione Europea. Siamo pronti a lasciar partire i cittadini che lo desiderano, soltanto dateci una mano a gestire la sicurezza degli aeroporti, dicono i rappresentanti dei fondamentalisti islamici, che promettono pure un'amnistia generale per i connazionali che hanno collaborato con gli occidentali nei vent'anni di occupazione. Il fatto è che l'Afghanistan è un paese al collasso, la gente ha fame e manca il lavoro, soprattutto nelle province, l'economia è disastrata. Ecco perché i talebani chiedono la revoca delle sanzioni internazionali, che in realtà colpiscono duro la popolazione più che la classe dirigente, e chiedono agli americani lo sblocco dei depositi bancari negli Stati Uniti. Gli inviati europei dicono che i talebani hanno confermato l'impegno a sostenere e rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, compresi i diritti delle donne, dei bambini e delle persone appartenenti a minoranze, nonché la libertà di parola e dei media, in linea con i principi islamici. Ma in questi primi tre mesi del secondo dominio talebano, le testimonianze dall'Afghanistan dicono esattamente il contrario.